Nel campionato di promozione ligure Girone B, il 2022 si apre nel segno del Don Bosco Spezia che al Franco Cima di Pagliari impone niente meno che un 6-0, ivi alcune immagini del match, al fanalino di coda Valdivara 5 terre per giunta presentatosi in condizioni ampiamente rimaneggiate per colpa della pandemia, situazione quest'ultima che in settimana aveva generato anche qualche polemica. Scatenati nel contesto i due doppiettisti oratoriani, vale a dire Naclerio e Del Santo, di quest'ultimo vediamo qua la seconda rete. Con tale successo i rossoneri spezzini si insediano al comando solitario della classifica anche se occorre considerare che le due seconde, vale a dire la San Margrietese e la Forza e Coraggio, due punti dietro, hanno disputato rispettivamente una e persino due gare di meno. Venendo al resto, questo rigore trasformato dal solito Dimitri Righetti non è sufficiente all'Evanto per evitare la sconfitta interna di fronte alla Tarros Sarzanese che si impone per 2-1 al raso Scaramuccia con le segnature di Giannarelli e di Lucchi. 1-1 interno del Collio Ortonovo, poi con Little James. Infine sfortunato il Magra Azzurri a Genova dove perde per 3-2 di fronte alla gogliardica Polis a tempo regolamentare scaduto. Bogliasco Realfieschi 0-3, non disputate Golfo Prorecco Marassi e San Margrietese Follo San Martino a riposo. C'era la Forza e Coraggio.